Giocare col mondo facendo due pezzi Bambini gusò e aridotto già becchi Non è colpa mia se la tua realtà mi costringe a fare guerra all'omertà, forse non ti sapremo quello che vuol dire, affogando sangue con l'umanità. Tento scolorato è quasi tutto qua, la mia rabbia legge sopra i quotidiani, legge nella storia tutto il mio dolore, catta la mia gente che non vuol morire. Quando guardo il mondo senza aver problemi, guardano le cose, le socialità, non è colpa mia se la tua realtà mi costringe a fare guerra all'umanità. Grazie! 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 trae spunto da un fatto successo nel 1920, cioè quando un artista, un dadaista di nome Apple, dirottò una nave tedesca regalandola ai russi, che avevano appena fatto la rivoluzione. La portò ad Odessa, i russi fecero una gara. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti! 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 giallo di grano, pieno, pieno, pieno così, pieno, pieno di gente felice, pieno di gente felice. Si unirono quella gente e scesero cantando fino alla grande piazza, qui altra gente si unì al loro, ma dove c'è, ma dove c'è, dove c'è, chiesero a me. Se credi che il mondo sia piatto, allora sei arrivata alla fine del mondo, se invece credi che il mondo sia tondo, allora sali, vai, sali, 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 e comincia un giro tondo. E la mela cosa fece? Invece la foglia non aveva capito e salutò, 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 salutò. Rientrò nel mare e nessuno, dico nessuno, la vide più. Ma forse per lei il mondo era ancora piatto. E... 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 Grazie a tutti. 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 a tutti.